buongiorno e buon sabato è un sabato mattino caratterizzato da viabilità scorrevoli condizionata dalla pioggia su molte strade del nord e sta nevicando debolmente sulla 22 autostrada del Brennero tra il Brennero e il Vipiteno su strade e autostrade non mancheranno comunque le gite fuori porta anche i primi spostamenti verso le località balneari laghi e città d'arte li aprono i centri commerciali da oggi i mercati le gallerie i parchi commerciali e gli impianti di risalita nelle località di montagna che erano chiusi come ben saprete dall'estate scorsa è complice anche le temperature in aumento ma monitoriamo come si presenta la viabilità in questo momento su l'A4 all'altezza di Sesso San Giovanni come vedete flussi veicolari vivaci in entrambe le carreggiate monitoriamo anche la 10 la genova 20 miglia come vedete c'è vento forte e comunque il traffico è scorrevole inizio nelle segnalarvi che ci sono disagi ovvero code motivate da cantieri di lavoro ma anche da traffico intenso sulla 23 Palmanova-Tervisio tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova ma anche sull'A4 e anche sulla 23 tra Palmanova e Tarvisio tra Udine e il Bivio della 4 rallentamenti invece si registrano per un incidente in Puglia sulla strada statale 100 del Gioia del Colle l'incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo Mottola in direzione Palagiano e poi vi informo che oggi si corre la 14esima tappa del Giro d'Italia di ciclismo con i possibili disagi e le viabilità al passaggio dei corridori e la 14esima tappa Cittadella-Monte Zoncolan 205 chilometri. Mi fermo qui grazie per l'attenzione e buona giornata e buon sabato arrivederci.